Ciao Fere Ciao Steph Vinciamo oggi? Sì sì certo che vinciamo Steph Con il mio scudo ti proteggerò E con le mie armi tu ti ammazzerò E allora scappo addio Steph E ragazzi come va? Io sono Fere Niki E sono Steph che si chiama Fortnite Benvenuti in un nuovissimo anzi nel primo video di Fortnite Che ovviamente dobbiamo celebrare con tanta serietà e professionalità Quindi andiamo a incontrare il lama super gigante che hanno messo con un nuovo update Che è tipo bellissimo non l'abbiamo ancora visto Non so nemmeno se c'è del loot quindi non so neanche se sarà utile Ma dobbiamo per forza vederlo Fere io lo vedo addirittura da qua da quanto è grande In questo momento lo sto vedendo te lo giuro Lo vedi? Lì tutto in un angolino in fondo a destra verso nord Andiamo Fere andiamo che lo raggiungiamo subito Allora non so infatti se è un punto di interesse utile Ce l'abbiamo sempre visto in lontananza Ho detto ma che accidenti è questo lama gigante Quindi andiamo a vederlo Poi sono belli lama è giusto andare a vederli Io spero che ci siano dei fucili Perché così vediamo il lama Ci porta fortuna Ci prendiamo i fucili E poi andiamo ad ammazzare tutti Secondo me nessuno andrà al lama gigante Per forza ci deve essere almeno Su fortuna questa frase non la puoi mai dire Tu dici nessuno andrà lì nella palude palentuosa Dove non c'è nessuno neanche per sbaglio E poi ci trovi dieci player Va sempre così Fere Guarda Stef È bellissimo eh Guarda che è un tipo lavoro Quello puoi anche distruggere perché è di metallo È di metallo Cioè sembra costruito da dei player ma invece non è fatto Allora Ho visto gente che è atterrata in una cittadina qua a fianco Fere ha filato l'atterraggio Mi sa tu volevo andare sulla schiena dell'amo Mi sa che non c'è nulla vero Aspetta Aspetta Teoricamente ci possiamo C'è una cesta C'è una cesta No non lo distruggere però Io speravo mi desse materiali No guarda Posso modificare la costruzione Ti ripeto Sembra una costruzione fatta con Cioè da un player Capisci Vieni 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 Scudo Mitraglietta Vado su sicuramente ce ne sarà un'altra Si spera Si spera Saliamo 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 Sai cosa vuol dire questa cosa Che se ti ci impegni è riproducibile Credo che infatti volessero far capire proprio quello Fere In endgame secondo me puoi rifare un lama Fere Ti immagini vincere costruendo un lama? Allora ce ne vogliono di materiali Però è fattibile Senti rumore di altre ceste? No sinceramente no Ok allora aspetta che andiamo un attimino qua Faccio modifica Togliamo questo No mi è chiuso sotto però Eh non mi interessa Favvisami quando costruisce Qui c'era uno shield Allora mi bevo un attimino tutti gli scudi che ho trovato Non mi puoi picchiare Allora Dai ti sei preso tutto Non ho niente Sono trappicone Dobbiamo andare a luttare Steph Dove andiamo qui sotto? Sì ma qualcuno c'è via Ho visto player scendere Loro saranno per gli armati Guarda guarda Mi sono affacciato un attimo Ho visto costruire scale Ho visto di tutto Quindi è meglio di no Beh loro saranno completamente armati Noi siamo in due con una mitralietta Quindi andiamo verso altre casette Sperando di trovare qualcosina Oh c'è da dire che io ho fatto tante kill Con i picconi Steph Se ti fidi Abbassati Abbassati Ci sono due player qua su test Li vedi? Serge Fehlama non ha portato bene Cioè questo game finirà malissimo Te lo dico Ok Andiamo 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 È il game di quelli proprio Senza farsi notare Capito? Noi giochiamo In modo molto passivo Fino alla fine E all'ultimo vinciamo A pugni Sì Qua non hanno mai lutato C'è una cesta anche in quella casetta Le viste No c'ho paura Eh ma cosa c'ho paura? Se mi sparano e muoio Io ti flamo per il resto dei tuoi giorni Sarà colpa dell'ama nel caso No colpa tua Perché è sempre colpa tua È l'ama che ci ha fatto partire male Quindi io semplicemente Ma dai tutto bianco Che schifo Sì che c'è una cesta Sì che c'è una cesta Che brutto Dov'è? Eccola Niente Fere? No ho trovato giusto Mamma mia Un fucile Una mitraglietta bianca Devo trovare da una cesta Ma stiamo scherzando? E pure io Pure io Non una mitraglietta Ma un fucile bianco Totalmente Che non è servito a nulla Iniziamo a correre ovviamente Un po' dentro la zona Dato che fortuna vuole Che siamo anche lontanissimi E tra 20 secondi Inizio ad arrivare la zona Quindi È la partita perfetta In tutti i sensi Fere Però siamo già in 58 Quindi non vorrei dire Ma stiamo facendo Un ottimo lavoro Sì certo Stando fermi È un ottimo lavoro Le persone vogliono E noi va bene Giusto? Allora Guarda qua Guarda che bel panorama Tanti cespugli Nessun player È il modo giusto di sopravvivere Fere? Steph ma non li hai visti neanche Dico io Pronta? Ma non ci hanno visto Ma non ci hanno visto Ah sto sparando tu Io non volevo sparare Beh che dobbiamo fare? Colpito una terra Buttata a terra Dai l'altro Dell'altro Ok Continua a rompere Lo sto colpendo È morto Uccisi Due team Mamma mia Due team Mamma mia Ok Hai read youtube Guarda almeno ci sei finito Su youtube Sei felice Ma questa è cattiva Non puoi fare battute cattive Dai sicuramente Ma il canale Mi muori così Con trofere Ma ti sembra Allora prendo questo Un fucile a pompa Bello Io voglio anche così E io voglio anche questo Zitti 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 Ok ti si è preso il fucile? Sì Prenditi quello shield da 25 Che è meglio di nulla Voglio anche queste Poi le granate Me le prendo che tanto ne ho altre Prendiamo le bende Non è vero Allora muoviamoci Perché ho paura Che qualcuno abbia sentito Gli spari Stef Io ne ho sentiti molti attorno Quindi non vorrei Che poi ci ritroviamo Sì ma C'è incredibile Con due mitraliette A ma sono due Che avevano un sacco di armi Bellissime Ok che li abbiamo presi alle spalle Però Io comunque avevo un fucile d'assalto Però vabbè c'è da dire Che non ci hanno proprio visto Eravamo a fianco Io ho preso Ho sparato E gli uccisi Lo so E c'è due kill e tu E zero io Non è giusto Volevo almeno uno Allora Materiali solo 69 Quindi se ci serve costruire Siamo un po' messi male Però penserei Prima di tutto Ad entrare dentro la zona Perché ci sta arrivando Oh mamma mia Non mi ero accorto Occhio Tutto a posto Ok ce l'ho fatta pure io Allora un attimino Facciamo Un po' di costruzioni Che io sfrutto allegramente Ok perfetto Ok perfetto Corri 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 No no ci arriva la zona Ferre non ci credo No dai che cavolo però Dopo due kill così Non possiamo prendere dagli In questo modo E invece lo prendiamo Corri corri E per di più stiamo andando Verso il lago Che è il pezzo peggiore possibile Ferre ma li senti Che stanno sparando tantissimo Sì secondo me ci stanno aspettando Anche secondo me Perché molte volte lo fanno Ti aspettano fuori dalla zona Perché sentono gli spari Da una direzione E capiscono Che tu arriverai da quella Sì Ferre sono qua in zona Sono qua in zona Porca miseria Che si fa? Aspetta prima di tutto Usciamo però eh Ok vedi qualcosa? No Di fronte a noi Stanno lutando e bullando Ok Uno lo vedo Dobbiamo andare vero? Aspetta mi sto un attimino Sistemando l'inventario Ok A posto Ok Ho paurissima Stef Allora uno l'ho visto Correre un po' Alla nostra sinistra L'altro secondo me Ancora qua sotto Che luta Però Dobbiamo avere visione Di entrambi Se vogliamo fare un bel agguato Eh sì Ti 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 Ok Li vedo entrambi Li vedi tu? No Ah sì Davanti a noi Pronta? Io ho una granata La tiro Vai spara Tiro anche una granata Spare una qua Una qua Una qua Vicinissimo Dove dove? E lo vedi? No Ti ho affianco a noi Cavolo cavolo Aspetta C'ho l'albero Che mi copre tutto Aspetta Tiro qualche granata Aia mi hanno buttato giù Perché aveva il pompo Accidenti Ah Hanno ucciso anche a te Sì Siamo dentro la zona Siamo ben armati Ho il cespuglio da utilizzare Direi che è una bellissima partita Abbiamo già ucciso due persone Abbiamo già ucciso due persone Una io e una Stef Esatto Ci hanno fatto un sacco di male Però Siamo ancora vivi e vegeti Quindi va bene A te hanno fatto un sacco di male Beh Ho fatto da scudo A me non hanno neanche sfiorato Ho provato a farmi entrambi da solo Devo essere sincero Ed è andata malino Allora Comunque Siamo dentro la zona Mi sono curato Adesso mi posso sparare questo Così torno full vita E full shield E sono super perfetto Devo dire che con le armi Poteva andarci leggermente meglio Però comunque Non è male Allora io ti dico Non sono messa malissimo Perché ho questo Fucile d'assalto col mirino Ed è viola Fa un sacco di danno Quello è buono Infatti è con questo che ho ucciso L'altro Quello è buono Quello è davvero buono Poi per il resto Fucile a pompa verde Io lancio granate però Ah bello 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 È il momento È il momento Della trasformazione Steph Cespuglio Ciao Perché non esiste il fuoco amico Perché Perché l'hanno tolto Forza Io vorrei ucciderti in questo momento Non fa vederti Non fa vedere un cespuglio Con i piedi Non si può vedere Sono troppo bello Lo so che sono troppo bello Grazie Che io Sai che non l'ho mai trovato Lo so Mai Non sono mai riuscito A girare col cespuglio È molto raro Perché tu non lo meriti Tu non lo apprezzi E quindi non meriti il cespuglio L'arte del cespuglio Tipo qua c'è un albero Ok Aspetta Uno Steph si mette così Ah no Cioè Ovviamente se sei una persona fisica E non mi posso infilare Speravo che Guarda questo albero Con questo cespuglio Dimmi che non è plausibile Eh Questa è l'arte del cespuglio Tu non ce l'hai Sicuramente Steph Siamo rimasti in 35 Siamo di nuovo dentro la zona Andiamo nella montagna Fede Andiamo a prenderci Quella dannata montagna Io sono giusto un po' triste Che non ho dei bei fucili A differenza di Fede Eh vabbè E questa cosa mi mette un po' di tristezza Però Devo accettarlo Allora 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 Raffaele lo sai che io faccio i ponti un po' strani Vero? Sì Ho paura a seguirti Sei già pronta? No Ok io vado Facciamo così Mi farei cadere di sotto Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Ok vai Sto anche finendo i materiali Che bello un cespuglio che costruisce Quanto ne hai tu? Eh dovrei farcela Aspetta Guarda la faccio nel tuo stile Ovviamente Ma che succede? Che c'è? Mi stavo baggando malissimo Non è vero Steph Tu non hai visto nulla Non è successo Tu adesso puoi fare un bel taglio E non sono mai caduta Pensavo di farcela con quel saltino Dai Infatti io l'ho fatto eh Pensavo di farcela Sì io l'ho fatto come Senza grossi problemi Ma le stanno sparando E li vedo pure eh Dove? Sono sopra una montagna Tra i 15 e i 30 gradi Ok Che sparano verso la città Ok Quindi abbastanza lontano Secondo me ci vengono addosso Io mi nascondo a mo' di cespuglio Sì sì ci provo Quindi lasci solo a me Lasci solo a me Tu pronta a spararli Stai abbastanza nella mia zona Ok Ok Eh dovrei avere un po' di copertura Ma qui non ne ho Secondo me mi massacrano Che secondo me Sto cespuglio non funziona Li vedi? Sono qua sotto di me No non li vedo Sono alla mia destra Nord est Sono nella strada Li vedi? No perché c'è la collina Vieni vieni veloce Che così li spariamo Non rompere Pronta? Ok sì li vedo Andiamo Vai Quello di destra? Quello di sinistra Colpito Distruggimelo Eh ma è qui sotto È qui sotto Non lo vedo più Spara quello di destra Granata Granata Spostati 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 Uno è morto Fere Ok C'è solo l'altro Ma la sono immaginata A me da fastidio il cespuglio È strano Com'è sparare Però io corro Vai 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 Ucciso 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 Bravi 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 Allora questo è un ottimo fucile Vediamo vediamo Munizioni 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 Granate che ne ho già Andiamo via andiamo via Perché penso che ci sia qualcun altro Steph Dobbiamo essere veloci Eh lo so lo so Prendiamoci munizioni e materiali Andiamo via Ok ok Via 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 Dannazione Avevano poche munizioni Io sto odiando il cespuglio Ma quindi com'è sparare col cespuglio Racconta Steph Che io non lo ho Eccordami la fastidio Che io uso la terza persona Per guardarmi un po' intorno E quando vedo foglie E le foglie Vedo foglie Capisci È fastidioso Potevano il tarmi almeno una volta Così me lo toglievano Invece no Devono anche missarmi No devi rimanere il cespuglio Fino alla fine Steph Siamo solo in 20 Dobbiamo rimanere il cespuglio Dobbiamo vincere col cespuglio Cavolo no No vedi 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 Mi hanno tolto il cespuglio Corri 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 Non capisco Non lo so Costruisci costruisci Sì vabbè ma Via 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 Ho pochi Ah no non ne ho pochi Ok Ok Continua a costruire Continua a costruire Continua a costruire Non me ne frega nulla Facciamo le barriere E cerchiamo di capire Penso che siano in questa direzione Quindi verso sud Sì verso sud Ok Non so quanto lontani però Ok Andiamo qui sopra E facciamo una super base Uh guarda quelli Airdrop che belli Li vedi? No Davanti a noi Sì Ascolta No 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 Io non vado Io non vado Rimango qua te lo dico Ok ciao Io vado per Io vado come Non ho abbastanza equip Sparano sparano aiuto Davvero Sì Ma a te Non lo so Senti tu uno sparo Mica mi preoccupo se è per me Scusa Prendo e scappo Beh dovresti chiedere No 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 Scusate siete stati voi Mi metto qui sotto Vicino alle tue scale Player 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 Dove No sono lì vicino Accidenti a te stef Perché devi fare Ste cose Stavamo andando Così bene Mh Immmm Invece fai schifo Cosa? Non so più dove sono Eh Lo so Non so dove sono Ci sono due airdrop Sono qui Accidenti a te Steph Accidenti a te Ti odio Ti odio tantissimo Ma sei tu che spari? Sì perché No cavolo mi hanno fatto malissimo Ma da dove? Dove cavolo sono? Sono qui sopra Sono sopra la casa Una è la sinistra dell'albero Esatto Una è sopra la casa Steph Penso Perché i colpi sono arrivati dall'alto Quindi penso che sia quella zona Non lo so Non lo so dove sono finiti L'altro È qui Una terra Buttato giù Buttato giù Ok L'altro Dov'è l'altro? È nell'albero lì Li sto tirando le granate Vedi? Ah sì aspetta aspetta Dov'è? 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 No cavolo Mi hanno buttato giù Fucile da cecchino Forse c'è anche qua Dietro di noi Steph Ci stanno puntando anche da dietro E mi sembrava strano il cecchino Anche a me Io te l'avevo detto che sarebbero arrivati anche quelli con gli airdrop Non era una buona idea Dovevamo prendere una posizione migliore Lo so Uccidi quello di fronte almeno E cerca di restarmi Vieni qua Vieni qua Più in qui Io ti odio Io ti odio Davvero ti odio Aspetta Te l'ho detto che sei una persona terribile Perché non controlli Ma perché non controlli Avevo 30 colpi No hai filato tutto Questa volta è stata colpa È stata colpa tua Ma non vincevamo Avevamo le cose per costruire in legno 30 colpi Non vincevamo Non potevamo vincere Siamo stati bravi Ma non eravamo così armati a sufficienza È utile È utile Io ho cercato i beni e gli airdrop Per vincere Ti odio Era la tattica giusta Perché se riesci Dici il successo E' la prima volta che il nostro video Potete considerare Da iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao 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 Ciao